Como, un territorio dove i turisti arrivano grazie al lago e a un paesaggio oggettivamente spettacolare, ma dove si fermano poco, perché nel tempo libero c'è ben poco da fare. Mostre, concerti, sport, un'offerta tutt'altro che in linea con quella di una città turistica di primo piano. La fotografia dell'indagine sul tempo libero del sole 24 ore può sembrare impietosa, eppure è condivisa da molti comaschi, quindi vicina alla realtà. Come spesso accade, ormai sono i social network a fornire un feedback immediato sul pensiero dei cittadini, e i commenti all'analisi pubblicata ieri dal sole 24 ore sono eloquenti. C'è chi sostiene, come Como sia una città per vecchi, chi sottolinea che sono anni che mancano l'attività in una bellissima città come Como dalle potenzialità non sfruttate. C'è chi sprona poi l'iniziativa, gli eventi si possono organizzare, invece di lamentarvi, attivatevi. E ancora, Como città fantasma, Como triste e inattiva da anni, nonostante sia una perla, una città che dorme. Alcuni comaschi lamentano non solo l'assenza di iniziative, ma anche di locali. Altri sottolineano come il lago, pur bello, ormai non sia più sufficiente. Decine di commenti dai quali emerge l'immagine di una città sonnecchiante, noiosa e ingessata. Infine, un commento sintetico, ma molto pungente, Como, desolazione a caro prezzo.